buongiorno bentornati su bio blu oggi abbiamo due ospiti che conoscete benissimo e quindi ci sarà sicuramente se non da divertirsi da sbagarsi molto allora il primo presentiamo prima quello che sta fuori dallo studio per cortesia paolo becchi da genova ciao 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 mi fa molto piacere essere qui con voi e per una bella discussione insomma grazie allora becchi lo conoscete il docente di filosofia del diritto all'università di genova quindi anche per estensione filosofo e non ha bisogno di presentazioni neanche l'ospite che abbiamo qua in studio oggi Gianluigi Paragone ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti reduce dall'attività politica reduce dalle sue attività di denuncia nel sociale reduce da una candidatura sindaco di milano che di cui adesso parleremo e poi storico conduttore televisivo dall'ultima parola la gabbia mi fa un po' di effetto è un ritorno sempre in famiglia perché claudio becchi insomma è una è una ricongiunzione diciamo di pezzi di strada vissuti assieme va bene allora bando ai sentimentalismi e cominciamo subito allora paolo prima vorrei parlare di questo che tu hai fatto un tweet che poi magari troveremo il modo di far vedere in cui lamenti il fatto che siccome tu scrivevi aveva una rubrica su libero insieme a giuseppe palma lamenti che all'improvviso non vi fanno più scrivere eccolo qua guarda insomma dici che ti hanno sostanzialmente possiamo usare la parola è purato è troppo forte da libero cioè non potete più scrivere sì insomma risultate ma guarda io non è che avessi una rubrica non l'avevo però quando feltri ha ripreso libero io avevo sempre un buon rapporto con vittorio e vittorio mi ha chiamato a collaborare a suo giornale e mi ha detto anche che non mi ha fatto il piacere guarda poi sempre scritto gratis questa volta ti pagheremo un pochino ma ti pagheremo qualcosa quindi ho fatto proprio un contrattino diciamo così e e sono andato avanti per diversi anni scrivendo un po da solo molto spesso con con pal con con giuseppe palma con la quale c'è una grande collaborazione da diversi anni e e anche con altri insomma portavo le voci anche di altre persone su diversi argomenti se si trattava di un argomento più economico eccetera magari lo facevo con zibordi il piano giuridico con palma qualche volta le mie riflessioni qualche volta le mie riflessioni facevano incavolare diciamo così feltri il quale le pubblicava lo stesso mettendo una replica durissima quello che lui chiamava ibib e ibibo cioè che cosa voglio dire con questo voglio dire che feltri mi ha sempre lasciato scrivere tutto quello che scrivevo non 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 ha mai posto nessuna censura sul suo giornale quando era il suo giornale e quando non era d'accordo e molto spesso non eravamo d'accordo e allora lui rispondeva in prima pagina dicendo che insomma non avevo capito niente qualche volta che con espressioni come sappiamo da parte sua piuttosto dura ma sempre una grande amicizia cordialità amicizia poi io so perché avete qualcosa di simile tutte e due insomma con questo vocione che pontificate beh è bello insomma un bel dualismo copi martali diciamo eh sì esatto ci siamo sempre sempre trovati bene anche se su molte cose molto distanti come 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 idee però insomma lo spirito liberale da parte sua di lasciarmi pubblicare su un giornale che appunto libero ti dava questo senso e poi cosa è successo e poi sapete tutti insomma quello che è successo che eh la proprietà ha deciso di inserire in realtà come direttore responsabile responsabile Alessandro Sallusti senza propriamente al momento che sembrerebbe togliere come direttore responsabile invece di testata Vittorio Feltri però come è arrivato lui è cominciata una le pulizie non lo so come chiamarle pulizia etnica dai via diciamo così tra virgolette e e tutti non soltanto io sono stato il primo no però se ho capito bene perché poi Feltri non so se avete visto ne ha fatto prima ha fatto un un tweet a mia difesa e poi ne ha fatto quattro o cinque adesso non so uno dopo l'altro nel pomeriggio dicendo che io ero soltanto il primo e che insomma tutti i collaboratori più stretti tutti i suoi più stretti collaboratori eh sono stati allontanati dal giornale eh e alla fine concludeva con un tweet dicendo quando è il mio turno una cosa del genere insomma ironica quando è il mio turno come per dire faranno fuori anche me credo che sarà difficile che possano fare a fuori anche lui però certo eh crea un po' di amarezza non tanto per me perché insomma quello non era il mio lavoro devo dire che l'ho fatto con passione e Feltri mi ha insegnato tanto mi ha insegnato come si scrive ho cominciato a capire come si scrive un articolo di giornale non so se ho capito tutto ma insomma eh mi ha dato tanto in questo in questo periodo e poi eh la linea del giornale è completamente cambiata c'è un giornale che è diventato eh portavoce del governo più degli altri ancora e a questo punto eh io che poi su Draghi non è che ho avuto una posizione di rottura completa anzi sono stato il primo a dire l'anno scorso a marzo dello scorso anno io avevo sostenuto eh su su un sole ventiquattro ore insieme a Ziborti che in Italia c'era una sola possibilità eh di uscirne eh per un governo istituzionale ne parlavo del marzo dello scorso anno quindi avevo già visto quello che sarebbe successo dopo ma in ogni caso eh Salusti non eh non volevano persona libera indipendente come sono io perché io poi scrivo appunto quello che penso e magari una giorno posso anche scrivere insomma contro Draghi l'altro giorno posso dire che questa cosa qui invece andava bene eccetera no? E a questo punto c'è stata la decisione proprio di non rinnovarmi il contratto che avevo in precedenza. Allora Paolo ascolta sentiamo cosa ne dice Gianluigi perché eh voglio dire un giornalista scafato come te hai diretto giornali a tua volta è normale che io ho lavorato con Vittorio sono stato vice direttore di Libero poi sono poi ho fatto anche il direttore quando Vittorio e Alessandro se ne sono andati. Allora diciamo così è normale che quando cambia direttore diciamo diciamo così io apprezzo ovviamente la la difesa di giustamente di di Becchi nei confronti di di Vittorio però Vittorio è è liberale quando gli conviene perché quando io mi candidai con con il movimento e io scrivevo per per Libero eh Vittorio mi mi cancellò disse siccome non non apprezzo la tua candidatura lì non la candidatura la candidatura con il movimento allora non scrivi più per per questo giornale o comunque non scrivi più di politica e quindi sai Vittorio Feltri è Vittorio Feltri che a seconda di come gli gira la mattina poi decide che cosa fare poi sai Vittorio io lo conosco lo conosco nella sua vita redazionale fin tanto che le cose vanno come dice lui allora va bene madama la marchesa quando non gli piacciono più perché qualcuno gli sfila un pezzettino del suo potere poi terrete conto che due cose interessano a Vittorio la prima sono i soldi e la seconda è la gestione del potere le altre possiamo mettere un'altra coppia una sono i gatti e l'altra e l'altra e altro dopodiché ma è sposato sì va bene dopodiché eh Vittorio fa il liberale quindi a modo a modo suo una libera interpretazione stavolta gli è andata male diciamo diciamo così stavolta gli va male perché c'è uno che eh che è esattamente frutto del del della produzione feltriana cioè Alessandro Sallusti è un prodotto della dell'azienda feltri che diventa più spregiudicato quindi feltri è un po' bollito diciamo la proprio lo dico proprio apertamente assumendomi la responsabilità di quello che dico e ovviamente la proprietà prende prende atto di un di un giocatore che è stato un grande direttore ha fatto la fortuna di quel quotidiano però ragazzi adesso onestamente Vittorio feltri è bollito giornalisticamente gli dà fastidio che qualcuno glielo stia facendo pesare eh però sai la difesa che tu hai fatto eh è una difesa che io posso tranquillamente rispedire al mittente è liberale quando gli conviene quando non gli conviene più ti censura come come ha fatto con me quindi allora Paolo adesso non stiamo su feltri di tutta la vita perché abbiamo delle cose di cui parlare tra cui Conte Grillo però diciamo tu ti ritrovi feltri è bollito interessato ai soldi al potere? No guardate a me non interessava forse c'è stato un equivoco spostare l'attenzione su feltri io ho voluto ringraziarlo perché lui mi ha lasciato la possibilità di scriverlo a me interessava non tanto il caso di feltri mi interessava il caso di Sallusti di una persona che eh diciamo così tra virgolette licenzia un suo collaboratore senza neanche degnalisi di una chiamata io ho saputo tutto quello che stava succedendo così con me su di me l'ho saputo lo sa va bene d'accordo io l'ho saputo soltanto ne ha io non l'ho saputo non l'ho saputo da Sallusti io l'ho saputo dal direttore amministrativo se se feltri ha fatto con te ha fatto una scorrettezza come del resto a mio avviso è stata una scorrettezza quella che Sallusti ha fatto nei miei confronti però al di là delle cose personali che qui secondo me sono poco influenti qui il dato di fatto è che avevamo un giornale che era in qualche maniera aperto in qualche maniera aperto a diverse prospettive per esempio sui vaccini tutti sapevano tutti che la mia posizione o sul virus tutti sapevano nel giornale che io avevo una posizione diversa ma io ho continuato a scrivere sul giornale e nessuno mi bloccava le cose che scrivevo per esempio critiche sui vaccini o sul virus ora tu hai un giornale siamo arrivati l'altro giorno in cui si sostiene che insomma bisognerebbe prendere in considerazione un'ipotesi liberticida sono le parole stesse del giornale liberticida c'è quella di mettere il vaccino obbligatorio per tutti senza neanche la possibilità che ci sia una replica a me interessa questo al di là dei destini personali tu sai sarei stato beccato in qualche maniera da feltri a me è toccato da parte di salusti quello che mi interessa sottolineare è il fatto oggettivo che avevamo tutto sommato un giornale che quantomeno lasciava un po di spazio per alcune ipotesi per alcune cose differenti rispetto a quello che sentiamo sul mainstream e adesso abbiamo un giornale completamente uniformato come tutti gli altri ma guarda ti dico noi al tempo che fa parte dello stesso gruppo editoriale abbiamo la stessa libertà io sul tempo scrivo quello che voglio e franco becchis mi dà la libertà assoluta vedo che sulla verità c'è c'è un dibattito apertissimo in tema di vaccini sono in pochi diciamo coloro che sulla carta stampata ancora hanno voglia di declinare una libertà e un pluralismo di informazione che tra l'altro sarà un tema che tratteremo successivamente a proposito della vergognosa rai ma è paolo purtroppo e benvenuto nel club dei giornali alessandro salut ripeto è il figlioccio cresciuto ormai di di feltri feltri quando le cose gli andavano bene era come diceva lui oggi oggi va meno bene e sono d'accordo con te si ha paura ad avere un pluralismo di informazione del resto ormai basta guardare bassetti come bassetti ormai per me è un po la vanda nara dei dei vaccinatori no volevo fare un generatore automatico di dichiarazione di bassetti no ragazzi basta guardare ma basta guardare un qualcosa ma basta guardare instagram dove ieri era ridico ormai è ridicolo cioè va in bicicletta io ti dico vai in bicicletta e non rompere i coglioni e no lui deve dire no sono andati in bicicletta con i miei amici virgola tutti vaccinati virgola perché il vaccino è la cosa più bella del mondo vai in bicicletta e non rompe i coglioni al prossimo sei su instagram metti la tua fotina se c'hai voglia come io metto quando vado a correre ti metti la tua fotina perché ormai mi sembra che fra un po è pronto per o l'isola dei famosi o per ballando sotto le stelle che è proprio lo vedo in questo mood allora provo a immaginare ma a tutti questi virologi nel momento in cui depotenzi la discussione sul vaccino o sul virus che cosa faranno dovranno tornare in corsia in quell'anonimato che dovrebbe caratterizzare gli scienziati o i medici perché i medici quando devono confrontarsi non si confrontano da fazio o dalla mattina alla sera in tutti i salotti televisivi si confrontano attraverso le pubblicazioni pubblicazioni scientifiche quali sono le pubblicazioni di bassetti quali sono le pubblicazioni di burioni quali sono le pubblicazioni di tutta questa gente zero infatti nel circolo vero accademico questa gente qua non vale un tubo non so se zero però so che per esempio so che fauci aveva un numero c'è un punteggio hanno questo scorre elevatissimo rispetto ai vari nostri virologi che è dato dalle pubblicazioni scientifiche ora becchi sa benissimo che il suo mondo le ranking è dato dalle pubblicazioni scientifiche ora noi abbiamo burioni le pubblicazioni scientifiche di burioni sono i tweet quando vada fazio pagato fazio canone perché comunque attraverso anche il canone rai oltre che con la pubblicità noi diamo la possibilità a fazio di esternare una di dare in esterno una parte esterna una trasmissione che è che tempo che fa che pagherà burioni magari poi burioni ci racconta che lui poi lo dà in beneficenza lo dà come cottarelli per le borse di studio a me non me ne frega io so che tu hai uno spazio televisivo dove predichi la tua omelia e io mi sono anche rotto le scatole pagato quei fondi pubblici e beh in parte sai nel momento in cui io pago il canone la televisione pubblica anche se la rai dà in esterna quella quell'appalto e qui allora anticipiamo il terzo tema entriamo a gamba tesa subito sul punto tu hai mostrato pochi giorni fa hai parlato di questa ammissione della rai che non so che documento aveva pubblicato una risposta a una interrogazione parlamentare forse adesso ce la spieghi meglio dove la rai ammetteva sostanzialmente di essere faziosa sui vaccini ovvero di non rappresentare tutte tutta la pletora delle posizioni possibili perché non c'è una legge che la ottima allora guarda ti dico questo noi presentiamo un'interrogazione in commissione di vigilanza io sono in vigilanza rai e prendo spunto dalle dichiarazioni di michele santoro dal sia da floris alla 7 sia dall'annunziata dove sostanzialmente santoro arriva per ultimo ma arriva sono contento a sostenere quello che già noi diciamo da un anno cioè è mai possibile che è un'informazione a senso unico nei telegiornali mai una voce di segno diverso mai un'informazione che vada a raccontare quella che è l'esperienza delle cure domiciliari i medici chi è guarito no è stata un pallottoliere continuo per un anno e mezzo ok quindi abbiamo riportato le dichiarazioni di santoro ho fatto presente anche il modo le modalità con cui vespa ha trattato i suoi ospiti da amici cioè se tu inviti una persona dopo non gli puoi spegnere il microfono dicendo spero che la radino penso che dovrebbero radiare vespa adesso questo poi chiamano gianni rivera e gli fanno un processo perché non si vaccina e io voglio ricordare che non c'è l'obbligatorietà vaccinale quindi se non c'è l'obbligatorietà vaccinale vuol dire che quel vaccino è opzionale se uno si avvale dell'opzione di non vaccinarsi non è un criminale invece praticamente per l'informazione sei trattato come un criminale e tutti gli ospiti che loro chiamano praticamente randellano con un randello nazista sulla testa chi non si vaccina poi la cosa che mi fa incazzare è quella che vespa i tolc chiamano come ospiti i peggiori criminali cioè i mafiosi li hanno chiamati perché bisogna fare l'intervista ricordo quando aveva intervistato in casa monica vuoi non intervistare quello che ammazza il figlio la figlia no però se non ti vaccini però se non ti vaccini e non sei fuori legge ok quindi non ti devono neanche istruire un processo cioè se un cittadino normale libero di questo stato che si avvale della della facoltà di non vaccinarsi ma viene trattato come un criminale allora dopo un po quindi leggo si chiede di sapere se quanto tempo in termini di minutaggio la rai abbia riservato a servizi interviste e dibattiti durante telegiornali e trasmissioni dedicati a posizioni non totalmente favorevoli al vaccino anti covid e alla gestione dell'emergenza in ottemperanza al principio della libera informazione volete la risposta bene la risposta dice in linea generale si ritiene opportuno porre l'attenzione sulla peculiarità della tematica dice stiamo vivendo una situazione non esistono temi notizie paragonabili a queste per cui non esistono regole volte a una sorta di par condicio che si possano ragionevolmente applicare a questa fattispecie siccome non c'è una normativa par condicio allora noi facciamo quello che vogliamo e te la metto poi ti dice ciò nonostante che uno che già dice va bene già è una tua cretinata perché il vaccino non è obbligatorio quindi tu devi rappresentare tutte le tutte le opzioni possibile poi c'è ciò nonostante in diverse situazioni bontà loro allora io domando in diverse situazioni e chi lo decide il direttore di testata e quei vespa che fa il suo talk l'annunziata il direttore generale quel presidente della rai che caro claudio abbiamo conosciuto anche qui tante volte marcello marcello foa che scriveva sugli inganni delle della manipolazione dell'informazione bene se il presidente della rai se mi dai un attimo la telecamera io mi rivolgo al presidente della rai perché quando siamo andati a fare il girotondo attorno alla rai abbiamo chiamato marcello foa perché lo conosciamo marcello foa dov'era marcello foa dov'è adesso marcello foa che bisognerebbe difendere il pluralismo dell'informazione adesso che dovremmo dire basta con questa regia che che parla in nome per conto a questo punto della rai comunque dico in diverse situazioni è stata data la possibilità pezzenti mi è data pagate caro nei poveri stronzi è stata data la possibilità di esprimere la propria opinione a chi è deciso di non vaccinarsi in un leale contraddittorio questo mettono nero su bianco qual è il leale contraddittorio quello di gianni rivera un lealissimo contraddittorio quando gianni rivera forse era stato chiamato per parlare dell'europeo e poi vespa ma lei è vaccinato quello l'ha spiazzato ha fatto un gol in contropiede ha detto no e non ci penso nemmeno e lì è partito un processo tipo cogne ok e pur tuttavia e qui arriva che inizia proprio l'escalation della dell'arroganza della rai e pur tuttavia in questo caso specifico non vi sono riferimenti che obblighino la rai a rispettare le logiche di ricerca dell'equilibrio nelle posizioni cioè la rai sta dicendo noi non dobbiamo ricercare l'equilibrio delle posizioni facciamo come vogliamo però loro hanno un contratto di servizio ma loro hanno un contratto di servizio io pago il canone se io non mi se io non mi vaccino e non sono un criminale io voglio che la mia posizione sia rappresentata perché io lo pago e non voglio essere chiamato novax perché mi avvalgo della facoltà di non vaccinarmi in una fase di sperimentazione quindi siccome io pago il canone tu devi raccontare anche la mia la mia il mio punto di vista altrimenti esonermi dal canone magari lo devolviamo altrimenti e infatti poi diciamo è invece un preciso dovere del servizio pubblico non diffondere fake news allora volete sapere quali sono le fake news per me è fake news il fatto che la rai quando chiama tutti questi professoroni non fa la prima domanda che un giornalista dovrebbe rivolgere e cioè lei ha preso ultimamente dei soldi dalle case farmaceutiche perché se io sapessi che colui che mi parla ha preso dei soldi dalle case farmaceutiche magari feitzer magari modera magari astrazeneca beh so già esattamente come quando io sento un rappresentante di partito sento che ha una cioè ha una sua posizione che è di parte io oggi sono di parte è vero ma voi lo sapete benissimo che sono di parte se invece l'ospite viene chiamato perché è un luminare e no dammi dammi gli elementi per capire oggettivi elementi se sei disinteressato per capire se tu sei veramente terzo nella tua esposizione e poi voglio sapere ma la tua scienza bene tu sei scienziato perché loro dicono noi seguiamo le posizioni espresse dal mondo scientifico il mondo scientifico parla come abbiamo detto prima per pubblicazioni e invece io non vedo tutte queste pubblicazioni allora da qui io ho deciso di studiare con un team di legali un esposto da fare alla magistratura contro la RAI e poi vediamo chi ne avesse voglia vediamo di agire con una specie di class action o di azione collettiva per chiedere il rimborso del canone perché io a questo punto veramente mi sono mi sento preso in giro dalla RAI e non ho nessuna voglia di mantenere con i miei soldi di mantenere questa televisione che non è più tv pubblica ma è televisione di testato è tipo ciausescu allora io non ti pa non pago la RAI di ciausescu che è draghi come prima era di conte perché mi sono rotto le scatole come prima per esempio la RAI con i suoi direttori di testata prendeva le immagini direttamente da palazzuchigi da rocco casalino ragazzi ma allora fate così fatevi una RAI che viene pagata totalmente dal mercato pubblicitario e non venite a rompermi i coglioni e poi paragone parla diciamo con cognizione di causa perché ricordiamo che sei stato direttore a lungo di RAI 2 insomma la baracca la conosci io sono stato nominato dalla politica e quando litigato con la politica me ne sono andato perché sempre per coerenza io faccio così che la mia coerenza è tale che con la nomina a vice direttore fatta dalla politica nomina a dirigente a tempo indeterminato con scatti retributivi ogni x anni quindi soltanto un cretino se ne può andare bene io avevo litigato con la politica avevo detto voglio essere assolutamente libero il saldo è zero e tu ti ricorderai perché quando hanno cominciato a negarci la possibilità di fare la trasmissione che volevamo all'ultima parola io ho messo sul tavolo le mie dimissioni e me ne sono andato. Paolo hai sentito questo esposto ecco Paolo voleva intervenire ma diciamo l'esposto così come l'ha prefigurato Paragone tu lo firmerai o lo firmeresti? Certo certo che lo firmerei e come del resto condivido condivido l'idea di una class action c'è di un'azione collettiva contro la RAI mi sembra abbastanza evidente che il modo in cui la RAI funziona così da parecchio tempo ma non è una novità ma il caso del vaccino e del virus e il modo in cui è stato trattato il virus nell'ultimo periodo è unidimensionale non c'è affatto una… che cosa vuol dire la pluralità? La pluralità significa che da Vespa Rivera d'improvviso gli fanno una domanda e spiazza tutti ma quella lì non è pluralità ma scusate ma che pluralità è? Non c'è nessuna pluralità e badate questo riguarda tutti i programmi noi abbiamo tre programmi pubblici RAI 1, RAI 2, RAI 3 abbiamo tre programmi su tutti i tre programmi non è possibile… Ma volendo ci sono anche a RAI News 24 perché poi… Sì sì sto parlando di quelli insomma più diffusi quelli che poi la gente diciamo così che guarda la televisione guarda sostanzialmente la gran parte della popolazione quei tre programmi e in quei tre programmi tu non hai mai una voce di dissenso in qualsiasi tipo di format, cioè puoi passare da RAI 2, lo spazio che hanno dopo il telegiornale, è tutto controllato da questo punto di vista. Quindi direi che assolutamente sarebbe necessario sia l'esposto sia anche proprio un'azione collettiva dei cittadini per far capire che no, noi non accettiamo, non è possibile che un servizio pubblico funzioni in questo modo e io sono sorpreso, lo volevo dire poi voi mi avete anticipato, dal comportamento di Marcello Foa, quante aspirazioni noi abbiamo avuto, quanto abbiamo lottato tutti, lo sappiamo bene, affinché potesse diventare lui il presidente della RAI, da quando è diventato presidente della RAI il silenzio totale, non abbiamo più sentito una parola e adesso poi scadrà prima o poi anche il suo mandato e poi che cosa farà? I soliti i presidenti della RAI diventano commissari o consulenti della trilaterale, per cui magari... No, io voglio dire, Marcello Foa è nato diciamo mediaticamente come blog, tu te lo ricorderai su Bio Blu, quindi ci conosciamo bene, però poi non ci siamo più sentiti. Io so per certo che è assediato perché la sua nomine è stata avversata politicamente in tutti i modi, quindi è chiuso lì blindato nel suo ufficio, però un minimo di coraggio in più forse potevamo aspettarcelo. Claudio, si è appecoranato in maniera incredibile, io ti dico la verità, io per difendere il vostro diritto di parola, il tuo, di Paolo Bard, io mandavo le scalette false al settimo piano, cioè io mi prendevo la mia responsabilità, ma questo uomo qua, che tra l'altro abbiamo dovuto fare il riconteggio delle schede, abbiamo dovuto rivotarlo, ci abbiamo messo la faccia, ok, per l'elezione di Foa, ok? Sì. E poi è scomparso, poi è letteralmente scomparso, lui è diventato grigio dentro il palazzo di Viale Mazzini, dai, su, quindi io guarda, alla fine devi mostrare se hai coraggio oppure no, perché altrimenti le rivoluzioni, i pavidi, non le faranno mai, hanno inutile annunciare le rivoluzioni, io la rivoluzione l'annuncio, dopodiché ci metto la mia testa, poi qualcuno me la può anche decapitare, mi può mozzare le mani, mi può far cadere, certo, però non è che posso dire il coraggio di rischiare, io al Movimento 5 Stelle glielo dissi, guardate che io ho un pessimo carattere, sono noto perché quando non si fa quello che ho sempre detto, io me ne vado, voi mi avete voluto, bene, però sappiate che nel momento in cui mi proponete di mettermi in bolla con l'Europa, di recitare la liturgia europea, non troverete mai il mio accordo. Allora, perfetto, perfetto, tu sei bravissimo, quindi hai già introdotto, ne siamo già passati, abbiamo voltato pagina, a conclusione dell'altra pagina dico che è importante quello che sta facendo lui, perché tutti si lamentano della mancanza di pluralismo, io stamattina ero in macchina, accendo Radio 1, appena ho acceso, ho subito cominciato a dire, la campagna vaccinale, ci sono i vaccini, i figli uomini, ma cazzo, scusate la parola, non è che appena accendi qualunque trasmissione metti, è la prima parola che senti ai vaccini, poi c'era il problema dei fondi del governo che davano 50 milioni di euro alle emittenti che spendevano i comunicati, cioè c'è tutta una commissione. Perché questo canale sta andando? Quante volte hanno tentato di soffocarti? Tante, però rinasci, perché? Perché c'è fame di notizia, hai voglia, proprio ne hai bisogno, perché a un certo punto ti mettono una cappa, esattamente come il maltempo che c'è in questi giorni a Milano, questa cappa che ti toglie l'aria, tu hai bisogno di vedere un po' di cielo, di respirare a pieni polmoni e allora benvengano gli esperimenti, l'avventura editoriale, tu sei un pazzo, perché come cazzo ti viene in testa di mettere insieme una baracca del genere in uno studio che conosco, perché qui facevamo la gabbia in un teatro poco distante, pochi metri di distanza dal tuo studio, quindi io respiro aria positiva, ma non è soltanto la tua sfida editoriale, è una sfida editoriale che senti che si aggancia con la voglia da parte di molti cittadini di avere un'informazione diversa, poi però c'è il grande censore, il grande censore che dice, ah ma bio blu racconta il falso e allora cercheranno sempre un soggetto che ti tolga in qualche modo ossigeno, liquidità, ti metto un bavaglio, perché è sempre questo il giochino, quello di sputtanarti. Poi c'è anche tanto conformismo, io parlo con gente anche di alto livello che sostiene il progetto, è affascinata, stai facendo una grande cosa tutti insieme, però poi non si spendono pubblicamente, perché rimangono abbottonati per conservare, io faccio comunque un appello a tutti quelli che vogliono censurare bio blu, i grandi media, gli editori, i riportatori di interessi, portate tutti questi ospiti e questi temi nelle vostre televisioni, vedrete che bio blu non la guarderà più nessuno, ci spegnerete così, integrando e accettando la conversazione pubblica che noi proponiamo, che è quella tratta dai bar, dalle trattorie, dalle autostrade, i camionisti, quello che il paese vuole, il paese parla di questo, finché voi non ne parlerete, ne parleremo noi e la gente ci seguirà. Sostenere bio blu significa essere parte attiva di una grande comunità che finanzia una propria tv, accessibile a tutti, per garantire uno spazio libero a informazione e pluralismo. go.bioblu.com slash dona. Sostieni la tua tv, continuiamo insieme la sfida. Paolo, prima di farlo raccontare anche a lui che è ancora dentro lì in Parlamento e l'ha vissuti per ultimo i 5 Stelle, i grillini eccetera, io ho vissuto la prima fase se voi vi ricordate bene, vorrei che però tu mi dessi la tua opinione sulla tematica annosa Grillo-Conte che sta diventando anche un po' una telenovela, cioè Grillo che dopo aver lasciato che Conte facesse il Presidente del Consiglio in nome e per conto del Movimento 5 Stelle per anni e se ne esce dicendo che Conte non è adeguato, dovrebbe studiare la storia del Movimento, non capisce niente di queste cose. Allora uno si domanda dove eri prima e perché Conte l'hai messo a fare addirittura il Presidente del Consiglio. Ecco, come la vedi tu questa problematica? Come finirà? Ma guarda, finirà come io avevo previsto, però all'inizio sembrava che avessi completamente sbagliato, tanto che su Twitter mi sono scusato. Io avevo tweetato prima di tutto che nascesse tutta sta vicenda che ci sarebbe stato un matrimonio combinato tra Conte e Grillo. Poi tutto quello che è successo mi ha costretto quasi a dire scusate mi sono sbagliato perché tutto stava andando a rotoli. In realtà a distanza di una settimana o giù di lì, si realizzerà proprio questo. Io sono convinto che alla fine arriveranno ad un matrimonio combinato, ma proprio quelli, non sto parlando di quelli un po' si tenta un matrimonio di interesse. Qui proprio un matrimonio combinato da Di Maio e da Fico e da tutti i parlamentari che in fin dei corti alla fine hanno detto, quelli che sono rimasti perché molti sono usciti, hanno detto vabbè guarda Grillo, così avanti non si può andare, dovete trovare un accordo voi due, dovete mettervi insieme. Quindi per via dei parlamentari, soprattutto quelli che sono in difficoltà, che non sapranno più che cosa fare e che sono rimasti comunque dentro il Movimento 5 Stelle, alla fine stanno cercando di fare questo matrimonio che sembrava fino a qualche giorno fa che non s'avesse da fare. Tanto che è incredibile, a me capita di prevedere le cose e poi tutti dicono ma no, è impossibile. Quando sono uscito dal Movimento 5 Stelle, inizio 2016 se non ricordo male, avevo detto esco dal Movimento perché questo è un movimento che andrà a finire, che farà praticamente, diventerà un accosto del PD o andrà al governo con il PD. Adesso non ricordo più l'espressione che allora adoperai. Tutti mi presero per pazzo e poi abbiamo visto come sono andate le cose. Adesso... E dopo le elezioni, eri stato anche il primo a dire proprio su Bioblu, ma perché i 5 Stelle e la Lega non formano una specie di alleanza per fare il governo e subito dopo... Ripreso subito da Borghi che diceva ma no, non è possibile una cosa del genere, ma cosa dice eccetera e poi andò a finire proprio così. E che devo dire, fu la cosa più bella, devo dire, quei 6 o 7 mesi, quanto è stato, adesso non ricordo, però furono veramente un tentativo, secondo me, furono bastonati, distrutti dall'Europa e questo non solo dall'Europa, il Presidente della Repubblica, vi ricordate, non se ne parla neanche, che Savona diventi ministro e bla 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 eccetera eccetera. Vuol dire che effettivamente era rischioso, era pericoloso quel governo, poi è andato tutto a farsi benedire. Ora, per colpa di varie responsabilità. Ora, che cosa sta succedendo? Io ero convinto che dopo questo discorso dell'elevato di Sant'Ilario che dice che aveva detto che basta, questo non ha visioni, questo non ha capacità manageriale, dopo che uno ha fatto un discorso del genere e dice, addirittura lancia l'idea tu, Crimi, adesso convoca immediatamente gli stati generali, vabbè, convoca le elezioni su Rousseau, che non esiste più per il Movimento 5 Terri, su Rousseau e facciamo il comitato direttivo. Quando ho visto quella cosa lì ho detto, vabbè, signore, mi sono sbagliato, c'è una cosa così, pensavo di non averci dato. Ho detto, vabbè, invecchiando. E poi che cosa succede? Proprio il giorno dopo o giù di lì, lui dice, no, blocca di nuovo tutto. Adesso ci sono i Magnifici 7 che, i Magnifici 7, da dove sono usciti fuori, nelle regole del Movimento, negli statuti vari, questi 7 Magnifici da dove siano usciti, non lo so. Il Magnifico, diciamo, ci vuole un po' di pelo sullo stomaco. Ma no, i Magnifici, no, volevo dire, i Magnifici 7, c'era un film, no? Dei Cowboy, quello lì dei Magnifici 7. Io mi ricordo i Sette Nani. I supereroi. Io mi ricordo i Sette Nani. Vabbè, appunto, ma c'era un film che mi ricordo, aveva una cosa del genere. Era in quel senso lì, Magnifici, tra virgolette. Beh, insomma, in sostanza, per farla breve, che cosa succederà. È un matrimonio combinato, un matrimonio combinato che nasce già con difficoltà, perché, guardate, nasce perché lo vuole Di Maio. Cioè Di Maio, colui che non poteva più sopportare Conte, che alla fine dice, beh, mettetevi insieme perché non c'è altra soluzione. Quindi immaginiamo tutti i problemi che potranno nascere in seguito. Comunque, dal mio punto di vista, è un'esperienza finita. Gli italiani continueranno a votarlo perché probabilmente Conte ha ancora un minimo di visibilità, anzi più che un minimo di consenso che gli deriva da quando è stato al governo e quindi a questo punto, boh, cercheranno di andare avanti, ma in questa maniera, ecco, i matrimoni combinati. Allora, aspetta Paolo, perché vorrevo chiedere a Gianluigi, che lui è senatore, quindi sei ancora nei palazzi. Quindi, anche se non fai più parte del gruppo parlamentare 5 Stelle, sei uscito, c'hai Italex, però magari li incroci, un po' l'aria la annusi, la respiri. E che aria è? Che aria si respira? Cioè, qualcuno magari lo sentirai ancora, magari vi parlate. Cosa hai percepito di tutta questa vicenda? Guarda, ti dico, ormai sono pochi quelli con cui parlo e quello che avverto è la paura, la paura di chi sa che il prossimo giro tendenzialmente non entra, ma è la paura anche di chi non può neanche più tornare sui territori. Perché questi qui erano dei ragazzi normali, senza grande esperienza politica, senza neanche grandi esperienze professionali. Quindi si sono ritrovati in nome di un'azione collettiva, di un esperimento collettivo, forse visionario, forse anche sgrammaticato per alcuni versi, però si sono ritrovati protagonisti come avrebbero potuto essere tante altre persone. Poi sono arrivate le candidature come la mia, come quella di altri, di pochi altri, che comunque avevano già un'esperienza consolidata. Infatti quando mi vengono a dire, ah ti dovresti dimettere perché tu sei eletto con i voti del movimento, ho detto guarda che io al nord ho portato un sacco di voti che il movimento non aveva. Se io non avessi messo la mia faccia in Lombardia e in Veneto, ma secondo voi chi era? Buffagni che prendeva i voti in Lombardia o Girotto o Dinka che prendevano i voti in Veneto? Io con le mie battaglie a difesa della piccola impresa, a difesa dei risparmiatori traditi, a difesa di quello che è il tessuto produttivo di quelle aree del paese. E poi anche con carisma diciamo, perché poi bisogna sempre comunicare. Insomma, i miei voti me li sono presi perché erano già miei e li ho dati al movimento. Quindi loro vedo che hanno paura, hanno paura e sperano in qualche modo di riuscire a rimanere aggrappati. Poi c'è la componente di quelli che invece si sono fatti già la bocca, che sono chiamati ministro, presidente e c'è la macchina. Pensate che ci sono ex ministri, penso la Catalfo, che ancora arriva con la macchina blu. Io ho un ufficio e ovviamente vedo gli ex ministri, il ministro del lavoro. Ora, ripensiamo alle parole del movimento. La nostra scorta saranno i cittadini e noi zero auto blu. Fico che andava sui mezzi a Roma. Tutte queste belinate, come direbbe il buon vecchi. Ora, io domando, tu sei ex ministro del lavoro, ma qual è il rischio dell'ex ministro del lavoro per cui gli devi dare ancora l'auto blu? Tutti gli ex ministri del Movimento 5 Stelle hanno ancora l'auto blu. Sono robe che la gente forse non sa. Oggi, se io fossi in un cittadino che ha eletto nel proprio collegio la Catalfo, DJ Fofo, al secolo DJ Fofo, oggi Bonafede e tutti gli altri, e li vedessi rientrare con le scorte, con le a casa, ma gli farei quantomeno una grande pernacchia. Non dico il vaffa, anche se ci sarebbero tutti i requisiti per restituire il vaffa, ma una grande pernacchia. Che bello che sarebbe se la rivincita di chi aveva sperato nel movimento fosse innanzitutto una grande pernacchia. Io ti perseguito cinque minuti con... Ah, bellissimo sarebbe, no? Ricordo il vecchio, una risata vi soppellirà. Sì, esatto. Perché c'è il tradimento? Però il problema è che in questi giorni noi stiamo assistendo ad una serie di complessità nel Paese. E mentre il Paese inizia a capire che tra poco ricominceranno i licenziamenti, inizia a capire che la sospensione delle rate non ci sarà più, le cartelle esattoriali arriveranno, che per avvalersi di un'ulteriore proroga dei mutui devi sapere che vai in presegnalazione rischi. Il fatto che per esempio nel PNRR c'è la cancellazione della legge Bramini e quindi le famiglie esecutate saranno sbattute fuori di casa prima dell'asta fallimentare. Cioè è un ritorno ad una posizione in cui il cittadino viene spogliato dei suoi diritti, ma anche di ciò che dovrebbe essere una parola che per la politica io penso che sta alla base di un contratto sociale, cioè il rispetto della dignità delle persone. Ecco, mentre il Paese sta parlando di questo, nelle famiglie si parla di una sfida tra genitori e figli a chi può avere un contratto di lavoro, il Movimento sta parlando delle regole per tentare di rimanere in vita. Guardate che non avete più i voti, il Paese vi ha già mollati e Monti pensava di avere in mano il Paese quando fece scelta civica. Quindi anche se Conte pensa di essere il più figo del bigoncio, non è così, non è così, perché quando non hai più uno stipendio, non hai un contratto, ma me ne fotto della tua pochette. Questo è un Paese che fra un po' si gira e abbiamo una classe politica che è strutturata per affrontare un tema che vedrà lo scollamento. Io venerdì ero a Napoli, ma ti sembra normale che un'azienda che si chiama Whirlpool, una multinazionale, voglia chiudere un stabilimento a Napoli che nel 2012 viene premiato come la migliore azienda al mondo del gruppo Whirlpool a fare le lavatrici? Perché poi c'è sempre questa cosa che a Napoli non fanno mai niente? No, quella è un'azienda fatta di lavoratori con grande dignità che hanno difeso il marchio della Whirlpool e invece la Whirlpool li vuole mandare a casa, cioè già in una realtà complicata. Ma tu come ti sogni, come puoi pensare di mandare a casa un'azienda per le tue logiche di multinazionali? Con tutti i soldi che abbiamo dato anche come governo come contributo pubblico alla Whirlpool. Ma te ne dico un'altra, sempre a Napoli. Ti sembra normale che 40 botteghe artigianali di eccellenza elevatissima, che sono quelli che fanno gli artigiani che fanno i presepi di San Gregorio Armeno, famosi in tutto il mondo, sono 150 metri di strada, 40 botteghe e lo Stato non riesce a riparare 40 botteghe e invece stanno arrivando i cinesi che dicono se volete ci mettiamo noi il grano per tirarvi fuori dei pasticci. Ma ragazzi, ma tu ti puoi far comprare dai cinesi i presepi e una tradizione? E però per la politica il problema è il Covid e la campagna vaccinale. Ma il Covid sta franando, sta facendo franare tutto l'altro mondo. Io il Covid l'ho avuto, non sono morto e come me ci sono un sacco di cittadini che si sono presi il Covid e non sono morti. Il Covid non è mortale in sé. Può complicare, perché è un virus aggressivo, può complicare un quadro clinico che è già abbastanza compromesso. Ah, ma lui si sentiva bene. Ma a volte noi ci sentiamo bene, ma perché abbiamo un sistema immunitario che in qualche modo ha trovato un punto di equilibrio, ma magari non sei, stai bene. Anche quelli che si sono vaccinati con Moderna a fare AstraZeneca e hanno avuto le moragie cerebrali si sentivano bene. Ma a Milano uno che aveva finito l'iter vaccinale è andato in palestra, quindi è un untore vaccinato, cioè un untore patentato perché gli dai pure il Green Pass adesso. Ma ti sembra normale? Eppure però io dico, io quando ho posto la questione dell'obbligo vaccinale per il personale medico sanitario e avevo scritto un emendamento per togliere l'articolo 4, non l'ha votato nessuno, l'aveva votato in quattro gatti. Il Green Pass abbiamo fatto, io ho fatto un emendamento per togliere quel Green Pass, non l'ha votato nessuno. Noi abbiamo messo in piedi tre mozioni di sfiducia contro il ministro Speranza, perché la Lega che critica Speranza non l'ha mandata a casa? Cioè a un certo punto le scelte, perché un conto è chiacchierare, un altro le devi andare in Parlamento dritto per dritto e lo mandi a casa. E 5 stelle su Green Pass e Speranza? Ma sono dei pagliacci, c'è ragazzi, ma te la ricordi la taverna cosa diceva sulla legge Lorenzin? E adesso non è che possiamo dimenticare tutto. Io mi ricordo la Grillo cosa diceva sulla legge Lorenzin e poi è diventata ministro della salute. Adesso sono lì che si fanno il vaccino e si fanno le fotografie, quest'altro squallore che si fanno il vaccino e si devono fare le fotografie. E intanto a sti poveri ragazzi, io sono genitori di due adolescenti, ci sono sti poveri ragazzi che vogliono andare in discoteca e gli stanno facendo credere che per andare in discoteca devono per forza avere il vaccino. Ma loro dopo un anno di didattica a distanza, chiusi nelle loro camere, ma tu puoi pensare che questi ragazzi gli fai un ricatto di questo tipo e a settembre ne vedremo un altro. Perché a settembre vedete se questa concezione burocratica sono peggio dei Soviet. Speranza è il ministro dei Soviet. Perché cosa fanno? Loro ti dicono io non ti metto l'obbligatorietà vaccinale, ma ti costruisco un percorso per cui tu devi mettere... Allora no, non fare il figo, ti prendi le tue responsabilità, vieni in aula con una legge sull'obbligo vaccinale e vediamo che cosa succede nel paese. Senti, poi chiudiamo l'argomento perché così parliamo di una cosa molto interessante. Paolo, ma tu ti sei prenotato il vaccino perché lo sai che Figliolo ti verrà a prendere a casa, li scoveranno, li staneranno uno a uno. Guarda, vedremo, vedremo che cosa succederà. Io aspetto, vediamo. Al momento attuale la situazione è che l'obbligo vaccinale soltanto è previsto per alcune categorie e già questo secondo me è un errore. Come ho già ribadito diverse volte, lo vorranno estendere e vedremo che cosa succederà e vedremo a questo punto anche come reagire. Stanno invece attuando, come diceva Paragone prima, a una tattica diversa. Non ti sei vaccinato, va bene, noi ti lasciamo questa libertà, però praticamente non puoi più uscire di casa, non puoi più fare niente, non puoi più lavorare. E questo, nei confronti di questo tentativo, bisogna assolutamente protestare. Devo dire che su questo devo anche dare ragione a Paragone. Io sono rimasto molto deluso dal comportamento sui vaccini, in particolare da parte della Lega. Ho sostenuto diverse volte la necessità, proprio su Libero, di qualche mese fa, ho sostenuto diverse volte anche con l'avvocato Palma e con motivazioni giuridiche molto precise, la necessità di sfiduciare non tanto il governo. Non ne facevo una questione di governo, io ne facevo proprio una questione riguardante specificamente il Ministro della Salute e Speranza. Sono stato del tutto inascoltato e questo veramente mi dispiace. È vero che non c'è soltanto questa battaglia, io stasera sarò a Milano per parlare dei referendum sulla giustizia, quindi tutt'altro argomento è secondo me altrettanto importante. Però insomma, se vogliamo essere garantisti, se vogliamo essere veramente liberali nei confronti della giustizia, se vogliamo far sì che non ci sia più giustiziarismo, perché assumere adesso un atteggiamento giustizialista nei confronti di chi non si vaccina. È assurdo. Senza l'obbligatorietà. E quindi a questo punto, lo dirò stasera, ci saranno i radicali, la cosa però organizzata da Siri, lo dirò chiaramente. Mi va benissimo essere qui, mi va benissimo partecipare a questa battaglia sui referendum sulla giustizia per limitare il potere discrezionale dei giudici. Ottimo. Però voglio dire attenzione, non possiamo fare a meno di discutere di questi argomenti. Il fatto di essere al governo, io non contesto che la Lega sia al governo, però tu puoi assumere una determinata posizione critica nei confronti di un ministro, dopo tutto quello che ha fatto prima nella gestione catastrofale del virus e ora nella gestione dei vaccini. Perché scusate, l'abbiamo dimenticato questo discorso qui di AstraZeneca prima ai sessantenni, poi ai ragazzini, poi di nuovo ai sessantenni. Ragazzi, con questo sistema qui, a Genova, nell'Università di Genova, io non lo so quanti ci siano stati di malati di Covid, ma in ogni caso non ci sono morti nell'Università di Genova, che io sappia, di questa malattia. Qualche d'uno si sarà. Però abbiamo un morto. Un morto di una ricercatrice che si era fatta di 32 anni di AstraZeneca. Noi abbiamo nell'Università un morto. Non so quanti malati ci siano stati di Covid, ma non abbiamo morti di Covid in Università. Ora, voglio dire questo. La responsabilità di questi cambiamenti, di questo disorientamento totale che c'è stato, ad esempio, su AstraZeneca, i rischi che oggi ci sono. Perché dicono ai giovani, no, 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 non lo facciamo più a AstraZeneca. No, adesso gli facciamo la terapia genica. Gli diamo direttamente Pfizer. Ma ce ne rediamo conto. Cioè, è una cosa assurda tutto quello che sta succedendo. E l'unica cosa che ha detto Salvino, a un certo punto ha detto, eh, ma no, forse sui ragazzini dovremo aspettare sulla vaccinazione. Ma un discorso così. A livello del lavoro parlamentare che cosa succede? Perché, Paolo, non accada quello che purtroppo già intuiamo come genitori. Cioè che a settembre ci diranno, ah, c'è il pericolo della variante, in presenza andranno soltanto i ragazzi vaccinati. E' chiaro che se tu dai un'indicazione del genere, i ragazzi che hanno voglia di stare assieme, io come faccio a dire a mio figlio, no, tu te ne stai in didattica a distanza. E i ragazzi hanno bisogno di stare insieme. E quindi io mi auguro che dentro il governo qualcuno, a un certo punto, non solo dica, ma agisca perché non si prenda quella via. Ecco, tu prima accennavi che stasera farei un'iniziativa con Armando Siri. Armando Siri è l'unico in Senato che ha avuto il coraggio, coerentemente, di votare la mia proposta di emendamento contro l'obbligo vaccinale per il personale medico-sanitario. E ti dico che questa cosa l'ho apprezzata perché Armando è venuto da me e ha detto guarda che io te la voto. Ecco, per fortuna c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di dissentire e dentro i propri gruppi parlamentari si prende le responsabilità. Allora, scusate, adesso abbiamo ancora poco tempo, abbiamo poco tempo perché poi lui deve scappare. Perché deve scappare? Perché è in campagna elettorale, o quasi, diciamo. Adesso ci spiegherai. Paolo, lo sai, lui ha fondato Italia Exit un paio di anni fa, più o meno. Un anno fa. Un anno fa. Adesso la notizia è che con Italia Exit lui si candida a sindaco di Milano. Le elezioni ci saranno in? Autunno? Settembre? Beh, vediamo, perché anche qui la data non l'hanno data, la finestra è 15 settembre, 15 ottobre, vediamo quando ci diranno che si può andare a bontà loro, no? Quando ci diranno che si può andare a bontà loro. Quando potremo esercitare i nostri diritti democratici. Esatto, esatto. Allora, perché questa candidatura, uno? Due, che cosa pensi che debba fare Milano per cambiare? Ma il perché di questa candidatura è semplice, perché non mi piace il modello di Milano firmato da Sala, che non è poi così diverso da quello che comunque il centrodestra aveva disegnato negli anni passati. Cioè una città in cui l'elemento popolare viene meno, perché è una città dove la golden share è quasi nelle mani dei fondi di investimento, delle multinazionali, a cui si sta facendo credere che Milano senza di loro è meno Milano, è meno Milano internazionale. Milano è sempre stata internazionale. C'era un grande pezzo di Lucio Dalla del 1979 che diceva Milano con la testa già in Europa. Milano che ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Questo per dire come Milano è sempre stata internazionale. Agli inizi del Novecento ci fu una grande esposizione internazionale, quello che poi si è chiamato all'Expo. E quindi Milano attraverso la propria tradizione industriale, attraverso i propri grandi uomini anche di finanza, ma di una finanza che era banca, banca che guardava l'industria è diventata la grande Milano. Oggi Milano è globale, globalista, è una città, una metropoli dove non ravvedo più la possibilità che si dà a qualcuno. Fino agli anni Ottanta veniva data la possibilità ai figli di Milano, a prescindere da dove tu nascessi, di diventare qualcuno, di avere la possibilità di avere successo. Questo perché accade? Questo accade perché per esempio oggi chi non riesce più a stare in centro viene scaricato sulle periferie. Le periferie sono il non luogo, cioè sono il luogo dove la politica taglia per fare il pareggio di bilancio. Quindi tu tagli i servizi, i trasporti, le scuole, la sanità. Tagli la possibilità di avere delle case a portata di tutti, non che oggi c'è una gang che decide se tu puoi rimanere in quella casa oppure se la coppia di anziani ormai è troppo vecchia e se ne deve andare via. Quindi ci sono delle dinamiche dentro questa Milano che sono scomparse. Quindi a Milano o ricicla il grande capitale mafioso dell'Andrangheta che si andrà a comprare i ristoranti e i negozi, oppure c'è la multinazionale, oppure c'è il fondo di investimento che si compra i boschi verticali. Perché nella Milano pseudo moderna, fintamente moderna, il bosco è verticale. Poi c'è il bosco orizzontale che glielo tagliano. Se vuoi andare a correre nei boschi o a passeggiare con il tuo figlio in carrozzina, devi fare segno della croce perché magari c'è qualche stronzo che o ti violenta o ti mena o ti fa qualcosa. E Sala però ha tolto gli uomini e le donne della polizia locale e hanno paura a parlare di sicurezza. Quindi a me questa Milano non piace. Non mi piace la Milano in cui la casa sia un asset di un bilancio dei fondi di investimento. Non mi piace una Milano in cui il commercio è sacrificato perché bisogna fare spazio alle multinazionali, a questa vetrina unica. Non mi piace la Milano in cui Uber è più forte dei tassisti, dove i ristoratori devono morire perché c'è il delivery. Ecco, questa Milano così non mi piace. Voglio restituire un'anima popolare a Milano perché Milano è grande ed è stata grande quando tu gli hai dato la possibilità di avere una chance, di essere veramente popolo. Ecco, mi dispiace che anche il centrodestra abbia avuto paura a candidare un politico, come se la politica facesse schifo. No, il politico è ciò che rappresenta il punto di equilibrio. Sala era un manager e prima hanno guardato Oscar de Montigny, poi Farinet e adesso tirano fuori un primario, come se il mondo dell'ospedale debba essere... Tirano fuori un primario che avrà una sua balia, Albertini, e poi ti dicono che è un uomo della società civile. E non è vero perché Bernardo è fratello di Maurizio Bernardo che ha fatto l'assessore in Regione nella stagione di Formigoni, ha fatto ampiamente politica. Lui, che viene candidato come uomo nuovo, slegato, ha fatto il consulente per la Gelmini. Quindi, insomma, io non ho voglia di essere preso in giro. Io ho voglia che qualcuno si prenda le responsabilità mettendoci la faccia. Ma hai un programma, hai già definito dei punti precisi, una proposta? Ti ho già dato una serie di scalette. Per esempio, Sala pensa di essere un sindaco green perché ha fatto quelle sfigatissime piste ciclabili che sono pericolose o perché ci sono i monopattini. Bene, io ti dico che per quel che mi riguarda quelle piste ciclabili, se dovessi diventare io sindaco, vengono tolte. Per il bene le sicurezza dei cittadini. E poi si dà una regolata a tutti questi monopattini. Perché ormai i monopattini sono diventati peggio degli scooter e sono padroni a loro rischio e pericolo, sono padroni della strada, non sapendo che intanto ti metti tu in una situazione di pericolo. E poi, in caso di incidente, ma chi paga? Non si capisce. Allora, vediamo di capire bene. Perché altrimenti, ancora una volta, è qualcuno che ha deciso che la mobilità green debba essere questa cosa qui. Mobilità green è che cosa? I monopattini. Sapete che i monopattini, quando è finita la batteria, li devi smontare per smaltirli? E quindi è un processo di grandissimo impatto di inquinamento. Però loro fanno i green, e biciclettina. No, un tempo si andava, come diceva Iannaci, si prendeva la bicicletta perché non avevi altri mezzi. Pedalare. Pedalavi e raggiungevi la stazione ferroviaria per andare a lavorare magari a Sesto San Giovanni. Allora, la bicicletta era green prima, perché non potevi permetterti un altro mezzo di locomozione. È green se tu punti sul trasporto pubblico. Quello è green, perché è intelligente, non è green modaiolo. Oggi è diventato moda. Ecco, io questa moda green, siccome sono brutto, sporco e cattivo, non la sposo, perché ci vedo veramente una grande paraculaggine. Paolo, cosa ne pensi della candidatura di Gianluigi? Ma guarda, mi fa piacere, mi fa piacere perché sicuramente porterà anche un po' di aria nuova comunque a Milano. Ecco, io non vedo al momento molte… Milano è una grande città, è importante. Insomma, voglio dire, Roma, d'accordo, ma Milano è la capitale produttiva, insomma, quindi secondo me ha un'importanza notevolissima. E se non altro il tentativo, ecco, perché non fare un tentativo di questo genere, tenendo presente che insomma, questo sindaco non è che abbia fatto delle cose eccezionali per quello che ne sappiamo. E l'alternativa, boh, non sappiamo neanche di preciso quale sia. Però scusatemi una cosa, mio figlio mi ha portato in questo momento, è arrivato adesso, questo libro, lasciatemelo mostrare, poiché non… adesso non so come… se si riesce a vedere… A curare il sovranismo, Paolo Becchi e… non si legge. No, a cura di… A cura di Paolo Becchi. E poi c'è scritto dalla pandemia… semplicemente è arrivato adesso, io ho continuato a lavorare su questi temi, anche se oggi sembrano del tutto inattuali, e ho messo insieme una raccolta di saggi, di studi, che comprende, per dirvela a tutti, da De De Benoit a Dugin fino a Fusaro e Fazzi, quindi composizioni un po' molto variegate, pluralistico, ecco, io sono stato veramente pluralistico con questo libro, consentitemi di farmi questa piccola pubblicità, visto che non potrò avere che soltanto sul mio blu, grazie, scusate, grazie. Va bene, sarai sanzionato dall'autorità per la regolamentazione, cioè che poi devi scrivere autopromozione, promozione, non si capisce più niente. Va bene, allora, io parlerei a lungo di tutto, però stiamo andando avanti da oltre un'ora e io ti avevo detto, parliamo una mezz'oretta, poi chiudiamo e vediamo se sarà interessato, però noi potremmo andare avanti anche tutta la giornata, ma so che tu hai molti impegni, so che Paolo deve partire per Milano e so che gli spettatori vorranno alzarsi per andare a fare pipì e quindi io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima perché sono sicuro che tornerete, Paolo è ospite abituale, ma anche tu adesso che poi hai una campagna, magari facciamo qualche confronto qua, vediamo se qualcuno accetta di venire e siamo disponibili, la tv dei cittadini e anche la tv dei confronti. Grazie e arrivederci a tutti.